Un saluto a tutti gli utenti di Italia Medievale, oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato da Carocci dal titolo La Pompei del Medioevo, San Vincenzo all'Ulturno dalle origini al sacco dei saraceni, dirige Richard Hodge, che abbiamo l'enorme piacere di avere il nostro gradito ospite e al quale come mia abitudine io lascio subito la parola perché ci parli di questo bel volume. Prego professore, a lei. Grazie, grazie signore. Allora il titolo è il titolo scelto più di 40 anni fa dal famoso archeologo monaco di Monte Cassino, Don Angelo Pantoni. E Pantoni era vecchio, vecchio, quasi 80 anni, quando l'ho incontrato per la prima volta 1980 e dopo due anni abbiamo trovato tutti questi resti e soprattutto le velli illustrando il sacco dei saraceni il 10 ottobre 881. E lui, con gran sorpresa, perché lui pensava che il monastero alto medievale era dove si trova oggi la nuova abbazia. E scoprendo questi resti a livelli profondi accanto alla cripta di Epifanio, lui ha deciso che questo con i freschi era un Pompei medievale. Io avevo un amore per Don Angelo, un personaggio squisito, un personaggio con grande umore, eccetera, eccetera. Allora ho scelto il titolo per questo motivo. E la storia è ben conosciuta di San Vincenzo, un monastero fondato all'inizio dell'ottavo secolo dei tre monaci beneventani. Aveva un gran dibattito in 1783 su il corso Longobardo, il corso carolingio. C'era un processo a Roma e subito dopo quelli Longobardi hanno persi la strada e è divenuto un monastero con il patrocinio carolingio. E da questo punto, per i prossimi 50 anni, dopo Abate e Paolo, poi Giosuè, poi Tallerico e poi finalmente Epifanio, fino a più o meno 840 c'erano tre grandi fasi monastici. Veramente un città monastica del tipo classico conosciuto di varie fonti medievali, però mai visto in questa ampia forma archeologicamente in Europa. e poi c'era un terremoto in 847 e poi l'arrivo più o meno 860 degli arabi e poi il famoso sacco in in 881 dopo di che dopo questo punto il monastero era abbandonato e poi durante il undicesimo secolo abbiamo abbiamo trovati i resti del due fasi grande del nuovo abazia prima di suo abbandono all'inizio del dodicesimo secolo quando il nuovo monastero dove si trova oggi il nuovo abbandono è stato creato sotto francamente il patrocinio di Monte Cassino più o meno. il punto di tutto questo il punto essenziale è questo mondo tra l'ottavo e sicuramente fino al nono secolo questo quasi duecento anni era un periodo in cui non c'erano città medievali nell'essenza romano c'erano ovviamente posti come Roma che avevano radici nel periodo romano ma in quel periodo era soprattutto città piena di tempi di santuari di monasteri non una città come sappiamo oggi sappiamo in altri periodi invece a San Vincenzo si vede in una maniera molto chiara un grande chiesa un grande chiesa un chioistro un settore laico del principe beneventani e anche tutti i vari elementi di un monastero in quel periodo le officine le cucine eccetera eccetera e soprattutto i cimiteri e così si abbia una visione per la prima volta di un monastero durante il periodo di Carlo Magno e si vede il cambiamento soprattutto creando la visione medievale proprio medievale di un monastero invece di quello abbastanza primitivo del prima metà dell'ottavo secolo cioè San Vincenzo è veramente un Pompei nell'essenza e francamente più importante dei Pompei perché ci sono tanti 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 città romani ben scoperte non così bello ma ci sono tanti invece San Vincenzo è un momento rinascimento momento rinascimentale in cui sappiamo c'erano altri come San Vincenzo Montecassino ovviamente Farfa, Novalese, Nonantala e posti in Germania, Francia però in questi altri abbiamo un pezzo di un chiesa, un pezzo di un edificio accanto a chiesa e basta invece a San Vincenzo si può passare sui pavimenti, sulle stanze, sui corridoi, si può vedere la topografia di un monastero del IX secolo forse ho spiegato tu troppo no no, anzi, fa venire voglia di andarci, io purtroppo non l'ho mai visitato, non ho mai avuto la fortuna di andare in quella zona e di poterlo visitare ma credo che sia qualcosa che bisogna fare assolutamente è affascinante perché lì si vede ovviamente edifici, chiesi, eccetera, come ho già spiegato ma anche come questo piccolo libro si illustra è pieno di freschi era nel termine di decorazione questo un posto eccezionale c'era freschi su francamente ogni muro e per questo motivo Don Angelo pensava era un Pompei e allo stesso momento ci sono tantissime inscrizioni ci sono inscrizioni tombale, ci sono graffiti su migliaia di tegole, di mattone ci sono oggetti di luso e ci sono oggetti quotidiano cioè si vede il mondo come era nel IX secolo per la prima volta in ogni settore del monastero quello del Chioistro, quello del Palazzo Laico dei Beneventani e così c'è una visione di un mondo che si sente bene nelle fonti carolingi ma per la prima volta si può toccare torno a dire che la cosa migliore da fare è cominciare a comprare il libro e poi col libro andare a visitare questo a questo momento si può visitare lo scavi fatto per 40 anni da parte mio, da parte dell'Università di Suos, ben in casa e della soprintendenza e c'è anche una serie di stanze dedicate ai reperti belli nel museo di Venafro dove si può vedere le cose buone, avori, avorio, è un avorio bellissimo e poi tante altre cose ma devo dirla anche San Vincenzo è in un posto bellissimo e in questo periodo di pioggia è proprio verde, è pieno di fiori è un posto alle sorgenti del fiume Voltuno e lì si trova anche i resti di altri periodi, Sanito, Romano e si vede che tra più o meno 500 prima di Cristo fino a 1000 dopo Cristo per 1500 anni questo posto, questo piano di rocchetta era ricchissimo dal punto di vista agricoltura e da questo punto si vede perché sotto un muro di montagne, le manardi si vede chiaramente che tra la natura e la cultura questo è veramente un posto speciale per visitarla allora ricordiamo il titolo del libro che è La Pompei del Medioevo San Vincenzo al Volturno dalle origini al sacco dei Saraceni appena pubblicato da Carocci e ovviamente scritto da Richard Hodge io lo dico malissimo perché il mio inglese è pessimo spero di... però la ringrazio davvero tantissimo per aver accettato questo invito e averci parlato di questo luogo con tanta passione e con tanto amore grazie mille, grazie, è un privilegio e come ogni straniero lavorando a Molise e soprattutto in questo posto bellissimo è un privilegio e era, devo dirla, anche un privilegio conoscendo un monaco come Don Angelo così è un'esperienza della vita grazie mille grazie ancora e a presto a presto, arrivederci io andai in un monastiero a non mentirmi a dire il vero poverandone secrate dieci eran tutte infogliate senza dirne l'amarezza grazie mille grazie mille grazie mille